Bagno di folla per il taglio del nastro del terzo ponte sul Saline a Montesilvano. Le massime autorità politiche hanno partecipato all'inaugurazione di quest'opera fortemente voluta dalla provincia di Pescara e anche dalla regione Abruzzo. Un'opera che servirà a snellire il traffico viario, soprattutto nella zona nord di Pescara, nell'area metropolitana e a ridosso dei comuni di Città Sant'Angelo e Montesilvano. Diamo sfogo a un'altra alternativa nei percorsi di viabilità che potrà sicuramente contribuire ad alleggerire il traffico, a rendere più scorrevole i collegamenti nell'area metropolitana a nord di Pescara ed è un altro tassello importante per l'Abruzzo che cresce. Abbiamo trovato quest'opera incagliata per varianti progettuali e problematiche di vario tipo. Siamo riusciti nel giro di poco tempo a reperire oltre 3 milioni di euro per completare l'opera perché tanti ne sarebbero serviti. Abbiamo fatto uno sforzo importante. Se non lo avessimo fatto questo sarebbe diventato un altro monumento alle incompiute e agli sprechi della nostra Repubblica. Quindi per noi c'è un punto di orgoglio quello di riuscire a dimostrare con un lavoro silenzioso, faticoso ma efficace e che le cose si possono fare e che i cittadini possono ricevere le risposte che meritano. Con questo ponte si chiude un importante appalto che risale al 2013. La prima consegna dei lavori per i tre ponti sul Saline risale a novembre 2013. Nel corso di questi anni ovviamente i primi due ponti si sono aperti e hanno già dato i loro frutti per la viabilità con questo terzo ponte che è un ponte importante e strategico ma lo diventerà ulteriormente quando poi, come hai detto giustamente tu, la ciliegina sulla torta si va a collegare Silvi Marina a Montesilvano e Città Sant'Angelo. Questo diventerà veramente strategico per le due comunità perché Silvi non sarà più isolato, Montesilvano non sarà più isolato e dà molta più fruibilità soprattutto al turista che interviene su questa nostra zona. Allora questa è un'opera che è partita molto molto tempo fa. Almeno tre governi provinciali, almeno tre giunte regionali compresa questa che ha appena iniziato la sua attività. È un'opera strategica, bellissima, dagli enormi contenuti tecnologici, moderna ma soprattutto molto utile, come lei ha raccontato, che rischiava di rimanere un'incompiuta però perché come spesso avviene in Italia si erano affastellate le procedure tecniche, il progetto ha subito molti cambi per via della presenza di fattori ambientali contrari e quindi i costi erano lievitati. Fortunatamente aveva vinto una ditta particolarmente solida e con il cuore ben radicato su questo territorio e di conseguenza il nostro arrivo ha portato alla semplificazione delle procedure con il nuovo governo provinciale e al rintracciare le risorse necessarie per poter completare quest'opera che oggi non è un'incompiuta, è una realtà che ulteriormente si completerà con la nuova strada che va verso Silvi. A quel punto tutto questo enorme tappo di traffico che si crea in questa zona sarà fluidificato con un evidente vantaggio dal punto di vista della qualità della vita, delle imprese, delle attività commerciali e di tutto ciò che produce economia.